la seconda cascata la tettoia c'era un cavallo che girava e con una pompa tirava su l'acqua per i giardini della villa scusi ma quella è parte della villa? sì, quello è il teatro di Diana è il retro del teatro di Diana glielo chiedo perché quando abbiamo fatto la visita veniva indicata come torre dell'acqua una dentro la limonaia ma invece il cavallo era qua dentro vedi quella tettoia, girava lì dentro e c'era una specie di pompa ah, era sul tetto? no, no, il cavallo era giù lì normalmente dentro c'era un altro serbatoio quello copriva un altro serbatoio dell'acqua però lì dentro c'era sotto quel tettoio girava il cavallo azionava quella pompa tirava sull'acqua e qui la falda è stata sotto sui 20 metri una volta, penso grazie a tutti Grazie.